Il Padiglione Italia, lo vedrete, è una novità, un solo artista, un'opera bellissima e un altro investimento che sta nella linea che da qualche anno stiamo cercando di seguire, cioè investire molto nell'arte e nell'articoltura contemporanea italiana. Non c'è solo il glorioso passato, ma c'è anche uno straordinario presente. Grazie.